Siamo con lo chef Renato Grasso perché dobbiamo annunciare un appuntamento importante, una serata davvero speciale, particolare, fatta con il cuore e con la passione di Renato, dedicata al Capo Magro, un piatto della nostra cucina, ma un piatto che tu vuoi portare addirittura al Guinness dei Primati, Renato. Certo perché è un classico della cucina Ligure internazionale, è un piatto che ce l'invidia a tutto il mondo, è un piatto che penso che sia tra i più belli che ci possa essere nella cucina e quindi a me piace tantissimo prepararlo, mi piace tantissimo farlo e allora il 14 vorremmo poi eguagliare questo recolo. 14 novembre, Santa Caterina di Varazze, Capo Magro per sognare proprio possiamo dire. Finché uno ne ha voglia. Sarà una montagna di Capo Magro perché per fare un record, un Guinness, sarà veramente una montagna infinita. Beh, guardando gli altri come erano, questo qui se dobbiamo farlo più grosso. Ma già l'ultima volta il ristorante era invaso dal Capo Magro, quindi ancora di più. Penserei di farlo un pochettino più grosso, magari 100 grammi di più, ma deve essere 100 grammi di più grosso. Quindi sarà una serata veramente speciale, Santa Caterina il 14 novembre e ci saremo tutti ovviamente. Io spero proprio di sì, ho bisogno delle vostre visite. In tanti perché ci sarà tanto Capo Magro da smaltire, mi pare di capire. Poi ci sarà un piatto da un ottimo vino, spero. E quello non può mancare. Sì, sì, sì. Ma poi Capo Magro è un piatto che unisce così, è un piatto che fa festa, perché era il piatto delle feste. Era il piatto delle feste. Se pensiamo che era il piatto dei poveri, oggi è diventato il piatto dei ricchi. Perché si chiama Capo Magro, ma è ricco di ogni sorta di pesci, di molluschi, crostagici, di tutto. Eh sì, perché nel 400 i scampi, gambe, le ragoste e ostri, che erano considerate di quarta categoria, oggi sono passati di prima categoria. Ma lo sai perché, no? Sono cambiati i gusti, forse, le abitudini. No, no, no. Perché quando i nostri antenati andavano a rubare la terra alle montagne, che ha fatto le terasse, se arrivavano la sera a casa e la moglie gli faceva quattro scampi di ferro, era fame, era cinghia di quella. Invece magari con quattro o cinque sardine, magari gliele faceva ripiene, gli metteva magari un po' di qualcosa dentro e mangiava, ci mangiava un pane. Invece con quattro scampi non mangi niente. Oggi invece le chiamo, oggi degustiamo, non mangiamo più. E questo è vero, fa parte della storia. Allora, 14 novembre, andiamo a conoscere ancora meglio questa storia da Renato, con il Capo Magro, una serata veramente da record.